Cari amici, cari concittadini, buona giornata. Oggi, 7 giugno 2018, vi parlo dal campo di gioco di Via Fontana Vecchia, dove in giornata, salvo imprevisti, dovrebbe disputarsi il famoso derby per l'assegnazione della Coppa delle Pippe fra l'assessore Giombetta, preposto al decoro urbano e all'ambiente, e l'Acea. Ecco, questo, come potete vedere, è il campo di gioco, sono per la precisione le ore 10 e 30 e si sta attendendo che le squadre scendano in campo. Giombetta vs. Acea. In palio, la prestigiosa Coppa delle Pippe, che contrariamente alle altre coppe, spetta al perdente dell'incontro. Riuscirà il Prodo e Giombetta ad assicurarsi anche questa coppa?